buongiorno a tutti benvenuti al nostro appuntamento con sorrisi live che noi chiamiamo iperbolicamente salotto in realtà è più una libreria comunque oggi abbiamo un ospite fantastico per me ma non solo per me credo per tutti è il re del pop è appena uscito con un disco meraviglioso di cui parleremo ho l'onore il piacere di presentare un amico ma soprattutto un grandissimo artista che si chiama max pezzali ciao max buongiorno buongiorno aldo e buongiorno a grazie della splendida presentazione ma mi alleno per presentare sanremo prima o poi ci arriverò dal tra l'altro parlo con un conduttore perché tu nella tua vita anche recentemente hai anche fatto il conduttore con fabio con fabio fazio quindi cioè se si dice almeno stato seduto di fianco a lui e quindi sono bravo a vedere la conduzione altrui quindi buono vuol dire che se il tuo giudizio buono su di me vuol dire che sei bravo a giudicare vabbè comunque mi prendo questi questi dicevo bravissimi allora mi è max io voglio molto bene a max proprio per me è una persona oltre che una persona speciale è un artista cioè grande sei unico ecco laura sabio tu non li vedi ma ci sono dei cosi spiego ma in questo momento quella che vedete dietro non è la sua faraonica villa tipo quella di michael jack dalle parti di pavia nemmeno la sua concessionaria di motociclette eccetera ma è un camerino un po adattato perché lui non credo di non poter dire cosa stai facendo di preciso ma posso dire che sei sul set sono sul set di un film di cui non possiamo parlare ma che sa ma che farà sicuramente parlare in futuro quindi ne parleremo di sicuro tra qualche mese tra qualche mese quindi lui è stato così gentile da accettare il nostro invito in diretta perché vi ricordo che noi andiamo in diretta il mercoledì alle tre e per fortuna si trovava in un posto dove c'era diciamo così un camerino perché se lui alle tre di oggi si fosse trovato in mezzo alla brughiera brughiera di di pavia sarebbe stato più complicato quindi ieri sera ti ho visto tra l'altro su sky un bellissimo speciale cato a te e al tuo nuovo disco questo nuovo disco si chiama qualcosa di nuovo e secondo me è un disco veramente che ha dentro qualcosa di nuovo ma c'è una cosa vecchia ma veramente vecchia la bellezza delle canzoni che fai e quindi guarda io so ente fede di questo album ecco scusate ci sono dei problemi di drop out come dicono quelli bravi ecco io sono estremamente felice di questo disco perché mi rappresenta al 100 per cento rappresenta il me stesso di oggi come forse nessun album è mai stato per me cioè nel mio passato ci sono state le canzoni magari uscite oggi ma scritte magari due tre anni prima questo album invece tutto scritto nella mia contemporaneità quindi non lo so ne sono particolarmente fiero orgoglioso perché sono io ecco sono io al cento per cento e sono io oggi no sono tutte quello dicevo che di vecchio c'è il fatto che sono tutte canzoni belle cioè non sei riuscito a peggiorare nel corso degli anni cosa che è rara per un per un artista di solito cioè un po peggiore i vostri due colleghi un po peggiorano no onestamente no invece qua ci sono ma guarda c'è una più bella dell'altra secondo me dicevo prima sono tutti singoli c'è naturalmente in questa città che abbiamo sentito qualche mese fa e poi c'è qualcosa di nuovo che il nuovo singolo con un video molto strano puoi raccontare un po questo video perché c'è uno che canta che non sei tu è vero verissimo cioè sostanzialmente io avevo bisogno per questo video qualcuno con la faccia abbastanza forte e con la diciamo l'espressività proprio dei lineamenti del volto abbastanza forte da raccontare bene il testo con il playback quindi ci voleva un attore e mi sono rivolto a fabio volo che è mio amico da ormai 25 anni e che ha accettato con entusiasmo ecco ecco no no abbiamo un po di problemi di connessione ma stavi andando bene io ecco che ha accettato con entusiasmo no ogni tanto scusate ma ci sono questi ecco si è un'imitazione questa è un'imitazione del drop out e dicevo e fabio ha interpretato perfettamente questa questa canzone con un video che ha scritto lui e in collaborazione con gianluca il regista realizzato in cui in un piano sequenza all'interno di un bowling si affrontano e si raccontano tutte le fasi dell'amore dall'amore enorme della giovinezza fino all'amore in cui si litiga l'amore per un figlio che è già nato cioè mio ai con me ma infatti tra l'altro la cosa bella di questo di questo video appunto come diceva max è che hai girato tutto di seguito quindi immagino sì che ne avrete tirati magari due o tre versioni prima di trovare il punto in cui tu fai strike col bowling no ma ne avremmo ci abbiamo girato anche un 10 o 12 il problema è che a me è venuto strike al primo colpo e non è più ritornato cioè non riuscivamo mai a riprendere la situazione tutti dai 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 e la pressione l'ansia sono elevatissimi e beh certo ma fabio l'ultimo colpo è uno strike per poi viene scritta la regia di regia di è uno strike allora io non me lo ricordo come uno strike nel senso non so che shooting abbiano preso però se perché poi vanno sui titoli e quindi non si vede spero e penso che sia stato uno strike ci ha messo il titolo ci ha messo davanti il nome del regista non lo sapesse è quando nel bowling tiri giù tutti i birilli con un colpo solo tutti i birilli in un colpo solo tra l'altro oltre a fabio volo c'è anche un e oltre a un tuo passaggio c'è anche un altro attore molto che avevamo già visto in un altro video sì c'è mio figlio che appare alla fine e ci incontriamo nel finale appunto prendiamo le scarpe da bowling e c'è mio figlio che peraltro dato che il regista gianluca l'aveva visto l'ultima volta nel video precedente in quello di in questa città in cui era molto più piccolo in un anno praticamente dice ma come io volevo farvi fare la scena al mini bowling adesso non è credibile perché troppo alto allora abbiamo cambiato la sceneggiatura tra l'altro è un ragazzino molto carino cosa 12 anni credono 12 13 12 anni 12 anni è un ragazzino molto molto carino molto moderno anche mi verrebbe da dire come ragazzino come di atteggiamento di postura di capelli eccetera e come si pone lui di fronte arriva arriva un io te ne leggo solo uno ogni tanto perché sennò passo disco spettacolare dice sari disco spettacolare grazie infinite troppo si pone con un papà così così importante diciamo la cosa divertente che la stessa domanda gliela fatta fabio no erano li ho visti che parlavano sul set e fabio mi ha detto ma sai che è molto maturo perché gli ho chiesto no dato che anch'io dei figli insomma ma tu come vedi la popolarità di tuo padre c'è è un problema per i rapporti con gli amici lui ha detto molto serenamente dice ma sai sicuramente ci saranno delle persone che si avvicinano a te solo perché e ti giudicano solo perché sei il figlio di qualcuno però l'importante che nella vita ai tuoi tre quattro amici veri e il resto non conta mi è piaciuta è abbastanza è abbastanza rap come come risposta si 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 trap anche senti una cosa poi ci sarà anche un libro che credo sia stata rimandata all'uscita di questo se vuoi ne parliamo se no però hai scritto già anche una diciamo una specie di autobiografia no allora al di là del libro appunto quando sarà il momento festeggeremo così come festeggeremo il il tuo concerto a san siro che io ho già detto anche un'altra volta era l'unico concerto che aspettava veramente con ansia cioè tra tutti potevano arrivarmi sprinting ma il mio concerto e devo anche dire che con molta poca umiltà prima gli ho detto diciamo nel backstage di questo incontro gli ho anche detto come avrei cominciato il concerto pensate come sono fuori perché durante quei durante tutti ma io ho colto io ho colto il suggerimento e l'ho accolto completamente per cui attenzione che potrebbe arrivare questa cosa quando torneranno quando sono messo quando la sera vado a dormire mi immagino il concerto di max e immagino malissimo come senti invece no però ritornando un attimo al libro è più che altro al concetto dell'autobiografia che si collega secondo me molto a questo disco in questo disco io ho trovato diciamo due anime no un'anima che è quella del ricordo diciamo così c'è ci sono delle cose bellissime come quando dici ma come abbiamo fatto a sopravvivere andare in giro come pazzi senza caschi no ora io non lo dico in poesia lo dico vero rosa però cioè che non ha una cosa non ha però anche io cioè oggi ci sono un sacco di precauzioni tu si proprio la parola mi fa le precauzioni e siamo sopravvissuti miracolosamente a delle cose incredibili no e quindi c'è tutto un ricordo di atteggiamenti di cose di regole eccetera poi però c'è una allo stesso tempo in questo disco c'è una proiezione molto forte verso il futuro è una mia sensazione o è effettivamente no no è verissimo cioè io in pratica in questo disco ho utilizzato il passato per raccontare la storia della mia generazione e per trarne una lezione per le generazioni presenti per chi è giovane oggi no è un modo per dire ai giovani guardate che se anche qualcuno vi dicesse siete una generazione non abbastanza non siete abbastanza non siete abbastanza colti non siete abbastanza interessati non siete abbastanza non fidatevi perché la stessa cosa che dicevano di noi e quindi dovete trovare una vostra narrativa la della vostra generazione esatto esatto tutti quanti siamo portati a dire ai miei tempi no invece tu appunto dici i miei tempi non erano poi sì sono belli perché sono passati ero giovane ricordi di certe esatto cose matte che abbiamo fatto eccetera però non era tutta sta bellezza no c'erano i problemi c'erano un sacco di problemi quindi quindi direi un disco veramente ma è solo solo essere piccoli negli anni settanta non so se ti ricordi ma era un rischio anche solo uscire di casa perché erano anni molto conflittuali io mi ricordo di mia mamma che diceva io andavo a casa da solo da scuola a nove anni 9 10 anni c'era se vedi il fumo mettiti il fazzoletto davanti al naso c'è il fumo erano le manifestazioni piazza e lacrimogeni che nella città oggi se mio figlio figurati se c'è dovesse vivere un'esperienza del genere ma figuriamoci ma butterei di sotto ecco no infatti 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 è vero e invece c'era questa diciamo capacità di adattarsi come c'è un po anche adesso con tutto questo casino che ci sta succedendo adesso addosso e nel quale ci stiamo comunque un po adattando senti un'altra cosa il tu da parte quell'esperienza con fabio in televisione fabio fazio non non ha intenzione di tornare in televisione o sì ma al momento non è senso che vorrei concentrarmi solo appunto sulla sulla musica e volesse idio sulla preparazione del live quello mi piacerebbe tantissimo perché per me è la chiave per me è la cosa che dà l'energia vera è il motivo per cui faccio questo lavoro la televisione ecco sono sempre convinto che sia bello farla quando trovi l'occasione giusta quando ti senti stimolato no quindi per il momento preferisco stare con gli occhi fissi sulla palla della musica ecco della musica esatto senti e tra l'altro vorrei ricordare a chi non lo sapesse ma credo che siano pochi che quando max ha annunciato il suo concerto a san siro no e mentre non tutti i grandi della musica riuscivano a riempire gli stadi lui in due giorni ha riempito san siro tant'è vero con le prevenditi tant'è vero che che ha dovuto fare la seconda data se non sbaglio no verissimo verissimo adesso tu ti trovi con una caterva di soldi dei biglietti e quindi il concerto lo devi fare per forza volente o nolente ti tocca farlo ma certo ma io non vedo l'ora io non vedo l'ora che ci sia la possibilità di risalire sui palchi non solo per me per san siro ma anche per tutti i colleghi per tutti i musicisti e per tutti i tecnici e le persone che lavorano nel mondo della musica che stanno soffrendo tanto in questo periodo e per noi ritrovare l'abbraccio del pubblico sarebbe la cosa più importante e più bella in questo momento speriamo che ritorni presto quel mondo sì ma infatti speriamo proprio di sì tra l'altro san siro ha una per noi mi metto accanto a te anche un altro significato perché e bisognerebbe anche che tu andassi a san siro per dare un po di gioia perché in questo momento la nostra parte di milano o comunque diciamo della nostra squadra cioè non è proprio a san siro non è che si trova benissimo secondo me hai bisogno di andare tu a fare l'incantesimo ma speriamo speriamo che io guarda sono d'accordissimo con te sono momenti così sono momenti così non dobbiamo prendercela è ancora un cantiere in costruzione le squadre adesso insomma io uso tutti i luoghi comuni in questo momento e beh ma questo è un campionato anomalo è difficile costruire una squadra con così poco tempo e poco tempo passato dalla fine del campionato scorso quello attuale insomma è uso tutte le scuse più gli acquisti per sostenere le ragazze gli acquisti per si acquisti sono stati tutti perfetti ericsson fondamentale all'interno poi si metterà a giocare anche vidal primo poi perché per ora fa un po all'ultima partita ha giocato un pochino meglio a dir la verità però sì con quella crescita io sai tutte le volte lui è un anno cos'è più di un anno che dice ma devo andare all'inter devo andare all'inter devo andare all'inter devo andare all'inter poi non veniva mai e allora sicuramente si sarà smontato non lo so immagino adesso sta acclimatando e probabilmente giocherà meglio speriamo speriamo io gli taglierei la cresta comunque io sarei più più per un look alla pezzali che non alla vidale perché secondo me anche lì gli può rovinare io ma soprattutto di testa vita c'è per i colpi di testa secondo me cioè dipende da dove prende se prende di qua presentava da una parte o dall'altra come avere una spazzola in testa senti una cosa max noi in questi incontri e siamo sempre noi in questi incontri chiediamo sempre al nostro ospite se ha voglia naturalmente perché sorrisi è sempre la casa degli artisti quindi non obblighiamo nessuno a fare niente però se ha voglia per esempio se nel suo repertorio di tante cose c'è per esempio un'imitazione tu hai un'imitazione ma io ne ho diverse allora adesso dato che mi trovo a roma e essendo passato prima davanti a villa borghese mi è venuto in mente il famoso personaggio di verdone che quando arriva marisol a casa sua che dice ma io che è bello buono questo vino ma che è vino questo è il vino da mi madre vino tinto ma che è tinto questo è buono è quello da mi madre c'è che c'è questa confusione tra vino tinto che vuol dire vino rosso e vino diciamo colorato e acco perché lui qui a borghese la famosa scena in quelli con marisol e dice ci sono tutte le cicale no roma d'estate e si ferma quando vengo a roma ha imparato benissimo il roma il romanesco tu perché forse anche perché tuo figlio abita lì cioè lui che lui come parla parla un po a romana no no allora mio figlio parla italiano molto corretto però quando vuole prendermi in giro diciamo sottolinea una cadenza romana ad esempio adesso dice una cosa stavo finendo un testo un mesetto e mezzo fa e lui stava finendo i compiti per noi ci dividiamo questi queste incombenze no e mi dice papà sai che se tu vivessi qui a roma ti chiamerebbero con un soprannome tipo er poeta io ho detto ma scusami ma come cavolo er poeta ma guardate va bene in mente una cosa del genere e lo dice per prendermi in giro no perché ed è quella cosa che ti aiuta a dire guarda non crederti troppo un figo perché tuo figlio per prenderti in giro ti chiamare poeta quindi perfetto comunque deve essere un ragazzino è l'ironia romana è l'ironia romana farti capire che comunque pertanto che tu ti creda un fenomeno comunque sei sempre un po nessuno non passa niente esatto senti un'altra cosa che ti chiedo noi stiamo per finire perché questi incontri rifacciamo bene poi tu so che devi appunto andare perché c'è in ballo un oscar credevo questa quindi quindi esattamente non ti voglio non ti voglio distrarre tu hai al parte le tue canzoni una canzone altrui che per qualche motivo ti è cara e hai voglia di farci almeno capire qual è proprio bastano due battute allora ve la faccio ve la racconto così per me nel collegamento è che cambiato più la vita tra le canzoni italiane e faceva più o meno così una vita maleducata di quelle vite fatte fatte così voglio una vita che se ne frega che se ne frega di tutto sì voglio una vita che non è mai tardi di quelle che non dormono mai voglio una vita la voglio piena di guai ma in realtà che non si sa mai in questa strofa però per dare idea quella è la canzone che quando l'ho sentita per la prima volta al liceo io mi ricordo esattamente il momento in cui l'ho sentita al festival detto questo è più grande capolavoro in italiano che abbia mai sentito tra l'altro non c'entra niente ma volevo dirtelo da tanto tempo una cosa che mi ha colpito è che tu in una vecchia antologia di cover di lucio battisti sei stato l'unico mi pare che invece di scegliere canzoni gol hai scelto una canzone di panella la metro eccetera che tra l'altro è un capolavoro la vista bravissimo è quella quella scelta che nessuno capì al momento ma anche discografici ma che cosa vuoi fare perché per me tutti quegli album di quel periodo quella appartiene a cosa succederà alla ragazza c s a r sono album d'avanguardia e quella canzone con i suoi con le parole onomatopeiche no la metro accelera eccetera eccetera puntini di sospensione se me meritava di essere raccontata perché è comunque un classico è comunque un punto di avanguardia della della musica italiana e dell'uso della parola nella musica italiana infatti adesso probabilmente sarebbe una hit travolgente perché proprio gli sguardi verso il vetro bellissima come noi pensiamo al cambiamento del linguaggio pensa da supreme no che scrive questi testi molti suoni onomatopeici con un linguaggio che che diventa un metalinguaggio no cioè cacchio ce l'avevamo anche con i testi di panella senti ailo piace da supreme piace a morire sì 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 mi piace moltissimo mi piace moltissimo perché anche personaggi anche fumetto e anche cartoon cioè evoca un sacco di emozioni esatto senti io starei a parlare con te delle ore ma poi lì il il come dice io sto leggendo l'autobiografia se non so se l'hai letta ma te la consiglio se non l'hai letta l'autobiografia di woody allen che racconta appunto come non l'ho ancora letta ma ma è dato che è uno dei registi che adoro di più devo leggerla assolutamente devi leggerla perché a parte ci sono dei momenti anche drammatici per tutta la sua storia ma è spassosissima e racconta soprattutto dei suoi rapporti con i produttori e col tassametro che va avanti mentre si tirano i film come se fosse infatti c'era una vecchia battuta di io e mi cui lui diceva a day anchito sei così bella che non riesco a te che erano sul taxi sei così bella che non riesco a tenere gli occhi fissi sul tassametro era bellissima senti io ti ringrazio il finale di queste conversazioni e di solito è un accenno alla sigla o più che sigla l'inno perché sorrisi assolino e i colori sociali il giallo blu che sono i colori sociali la bandiera e l'inno che è esatto e voglia di accennarci proprio una allora con il massimo rispetto per luca iurman che la cantoni divinamente però andrei con il ritornello so risi is magic so risi forever so risi to night the light a million stars in the sky in the blue night vabbè ho confuso un po le parole però il senso è quello è stato bravissimo sei stato bravissimo max grazie mille cori sul set grazie aldo grazie a tutti e scusate scusate il collegamento così ma purtroppo è quello che ci passa il convento benissimo saluta milo digli che anch'io sono un fan di da supreme sebbene abbia 137 anni più di lui e spero io anch'io è grazie finita grazie a tutti vediamo un abbraccio presto non posso svelare scusa l'ultima cosa non posso svelare cosa succederà fra pochissimissimo tempo su sorrisi però i fan stiano non possiamo dirlo esatto state raccordi e guardate in giro ok siamo ancora grazie a voi ciao